Amici 18, Tisce e Alberto litigano, Non ci sopportiamo più Come ogni anno il pubblico si lascia travolgere e conquistare da alcune grandi amicizie o potenziali storie damore che si sviluppano ad Amici di Maria De Filippi. Dopo i tanti duetti fatti insieme, sul web erano nati già alcuni pettegolezzi che volevano come coppia Tisce e Alberto. Ma questo bel feeling è già giunto al capolinea? Dopo quella che è parsa una scenata di gelosia della ragazza, avvenuta pochi giorni fa, le ultime dichiarazioni rilasciate sui social danno proprio il senso di una situazione molto tesa. Tisce e Alberto, dichiarazione su Instagram, Non ci sopportiamo. È stata Tisce, che riceve voti molto alti ad ogni esibizione come il suo grande amico Alberto Urso, a pubblicare una storia su Instagram nella quale rilascia dichiarazioni che sicuramente non faranno molto piacere ai fan della possibile coppia. Difatti, facendo riferimento a quella che era stata considerata una scenata di gelosia, la ragazza ha dichiarato sui social che non ci sopportiamo più e ha poi detto una frase poco felice che ha catturato lattenzione dei telespettatori, compenso la mancanza di colori con i miei capelli. Forse però c'è già aria di riconciliazione? In un video pubblicato da Alberto Urso si vede Tisce che lo saluta con la mano, anche se la sua espressione lascia supporre che la rabbiatura non sia ancora del tutto passata. Come procederà la storia?. Tisce fa una scenata di gelosia. Negli ultimi giorni Tisce e Alberto avevano litigato dopo che lei aveva evidenziato alcuni comportamenti da parte del tenore che l'avevano infastidita, se vuoi dar valore a qualcuno, ma lo stai già facendo con tutti, io preferisco la sottrazione. Se agli altri dici buongiorno, a me devi dire ciao. Non mettere in aggiunta. Perché in aggiunta è peggio. Insomma, la ragazza di Amici 18 rimprovera ad Urso di trattarla esattamente come tutti gli altri, quando invece lei desidererebbe un trattamento diverso in considerazione del fatto che la loro amicizia sta diventando sempre più profonda ed affettuosa. Non è finita qui, perché la vicenda è andata anche oltre, Tisce, resasi conto di aver forse esagerato, ha minimizzato il suo discorso dicendo di non aver fatto alcun riferimento ad Alberto e di star parlando in modo generale. Il tenore però non ha creduto a queste parole e ha rilanciato dicendo, ho capito che sei contro di me e lo hai detto a me chiaro e tondo. Ma io faccio distinzione tra le persone. Come si evolverà questa intricata storia che potrebbe diventare damore? Forse i telespettatori dovranno attendere la fine della pausa natalizia per vedere interagire i loro beniammini. Ciao!